La Padova Marathon è evidentemente un appuntamento sportivo di grandissima portata che richiama anche testimonial e atleti veramente di fama internazionale, ma per i padovani è un appuntamento imperdibile per misurare il peso e la qualità del cuore dei padovani e ogni anno è un'attestazione sempre maggiore che i padovani hanno un cuore grande, che i padovani sanno esprimersi come pochi altri e che quando si mettono insieme i risultati travolgono ogni aspettativa. Sono oltre 20 le associazioni, le charity che partecipano a questo appuntamento con l'obiettivo comune di raccogliere fondi per realizzare grandi progetti che ognuno di loro ha in cuore ma anche nel cassetto per il bene delle loro persone e per cui noi istituzioni abbiamo il dovere di essere a fianco a questo spaccato di comunità meravigliosa che ci insegna tantissimo, che ci dà tanto e ci saremo in tutti i sensi anche fisicamente combattendo come fanno le associazioni per raggiungere i grandi traguardi dello sport ma anche in grandi traguardi della solidarietà. Padova c'è e ci sarà con un risultato anche quest'anno, il 21 aprile, che ci renderà tutti orgogliosi della nostra città e della nostra provincia. Quest'anno abbiamo avuto un più tre rispetto allo scorso anno, questo significa che il format è un format convincente. Noi siamo molto contenti perché pensare di mettere a disposizione della rete del dono il nostro evento, che è un evento della provincia, della città, che attrae molte persone, attrae i valori di questo territorio. Questo territorio è un territorio che sulla solidarietà ha sempre fatto la differenza e lo sta dimostrando questa adesione massiccia perché poi l'adesione è legata alla prospettiva che le associazioni hanno di intercettare fondi. Quindi è una bellissima vetrina, noi siamo orgogliosi di mettere il veicolo maratona a disposizione della solidarietà. Oggi presentiamo il programma delle Ceriti che è quello che contraddistingue un po' Padova rispetto a tante altre realtà e anche di questo ne siamo orgogliosi perché il mondo sportivo muove questa corsa alla solidarietà, all'aiutare, aiutarsi perché ognuno di noi conosce un'associazione benefica, ognuno di noi sa cosa vuol dire lavorare nel volontariato e lavorare per il bene degli altri, perché tutte le manifestazioni sportive, ormai lo dico veramente consapevole di quello che sto dicendo, ma veramente tutte hanno come scopo principale quello di aiutare gli altri e Padova da questo punto di vista è veramente un'eccellenza e la Padova Marathon rappresenta veramente l'apice di un movimento sportivo bellissimo. Grazie.